Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo, se non ci conosciamo, ci conosciamo con uno svuota la spesa di Vasco Anche lo scontrino così vi posso dire i prezzi Prima tra tutto l'acqua naturale, primia, a 1,32 euro La cassa d'acqua L'insalata del sonnino, quella dell'orto degli angeli, a 99 centesimi Ne abbiamo preso due La zucca cruda tagliata È già pretagliata Pagata 1,99 euro Vuberone di pollo, due confezioni Pagati 1,69 euro a confezione Peperoni rossi Pagati 3,72 euro Zucchine verdi Pagate 1,47 euro Il caffè Il caffè lavazza a qualità rossa 6,89 euro Lo zimil Ne ha prese due confezioni Pagate 1,69 euro a confezioni Pagate 2,99 euro a confezione Parmareggio formaggini Pagato 1,75 euro a confezione Pagato 1,75 euro a confezione Dal banco gastronomia ha preso La mortadella a 1,64 euro E il prosciutto crudo a 2,59 euro Invece il formaggio Ha preso la scamorza fumicata a 4,44 euro E il formaggio fioretto a 4,83 euro Infine le patate Sono della pizzoa di Yodi Pagate 2,99 euro Questa era tutta la spesa fatta al basco C'è qualche aggiunta di frutta Che abbiamo preso al mercato Frutta di stagione Melone, le ciliegie, nespora, bicocche Quello che non abbiamo trovato al supermercato Anche le banane Spero che il video vi sia piaciuto E' stato utile in qualche modo Lasciate un like Un commentino qui sotto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Vi mando un grosso bacio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao